bella a tutti ragazzi in questo video vi mostrerò come scaricare il just dance 4 vi ricordo che questo cioè scaricare giochi se non si possiede la copia originale del gioco è illegale quindi non mi assumo nessuna responsabilità e ora andiamo al video allora per scaricare il just dance 4 bisogna avere utorrent che è un programma che penso conoscete per scaricare film giochi e tant'altro e allora bisogna andare su questo sito e non so se metterò il link in descrizione quindi credo sì comunque e niente qui fate scaricare torrent e vi partirà download su torrent e io l'ho già fatto e quindi e quindi niente io praticamente c'era il il file rar che ovviamente non è questo perché questo qui tramite web backup manager e lo si metteva direttamente dentro e poi funzionava io ho provato per sicurezza e perché se mettete tipo quando lo scaricate e vi scarica un file rar e dentro quel file rar lì ce n'è un altro questo qua che praticamente che ho trovato da quello prima è questo che dovete aprire con web backup manager perché se aprite quell'altro e non c'è anche tipo potete scaricare la copertina perché non so forse vede il titolo del gioco quindi ve la trova però solo vi poi non funziona perché ho provato e niente per questo video è tutto mettete mi piace se vi sono stato d'aiuto e iscrivetevi al canale e commentate se avete problemi e alla prossima ciao